Se la riforma dovesse essere partorita così come è stata concepita, senza dubbio sarebbe, credo, la pietra tombale per il sistema giustizia in Italia. È un duro attacco alla riforma della prescrizione di bona fede, quello dell'ordine degli avvocati di Arezzo, che non nascondono i propri dubbi e timori. La riforma, che sarà nuovamente messa in discussione il prossimo 27 gennaio, quando il testo tornerà in aula, sostanzialmente prevede lo stop dei termini di prescrizione, sia dopo la sentenza di assoluzione che di condanna. Viva tutti i principi che attengono al processo. Il processo, il cittadino ha diritto di vedere un processo durare a un certo limite e non può quindi aspettare a vita una situazione di questo genere per la prescrizione. La riforma però che ci riguarda è anche quella civile, che anche quella civile ha tanti connotati che non si attagliano all'organizzazione dei nostri tribunali, del nostro processo. Quindi si tratta di una serie di accozzaglia di norme che evidentemente a nostro avviso fanno più danno che bene alla giustizia. Tutto ciò ad Arezzo va a sommarsi alla delicata situazione nella quale si trova il tribunale. Qui si sono verificate delle coincidenze che magari altrove non esistono. Mi riferisco alla gravosità del processo Banca Etruria che attrae energie sia di magistratura che del personale amministrativo al di sopra dell'ordinario. Ma mi riferisco anche a numerosi trasferimenti che porteranno l'organico dei magistrati veramente al di sotto della possibilità di dare una risposta adeguata e di qualità minima, pur minima o comunque di buona qualità, alla domanda di giustizia del territorio. Da qui l'appello lanciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Abbiamo prossimamente un incontro con tutte le forze politiche e rappresentanti parlamentari della nostra zona per sollecitare e per evidenziare questa difficoltà per non rischiare a un blocco totale del nostro tribunale. Non nell'interesse escluso dell'avvocatura ma nell'interesse anche dei nostri rappresentanti e di qualunque cittadino voglia avvicinarsi o sia obbligato ad avvicinarsi al tribunale. Grazie a tutti.